Un importantissimo intervento di riqualificazione ai giardini amadesi sia a servizio del quartiere, di tutta la comunità, ma anche a servizio delle scuole che sempre più si stanno riprogettando con attività all'aria aperta, sia per l'educazione fisica ma anche per le attività didattiche. Questo non solo per fronteggiare l'emergenza, per i problemi legati alla pandemia, ma anche per imparare dalla pandemia e valorizzare tutte le attività che si possono fare in un ambiente sano come quello di questo giardino o di altri spazi della città, percorsi vita, percorsi salute con attrezzature ginniche, sicurezza, quindi spazi chiusi e anche video sorvegliati e un'attenzione poi al verde e alla cura del territorio su cui ci siamo impegnati ad essere molto attenti e molto costanti.